Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la medaglia d'oro al Polor Civile alla memoria di Antonio Derasis, la guida che il 20 agosto del 2018 perse la vita insieme ad altre nove persone nella strage del Raganello. A darne notizie è stato il Sindaco di Cerchiera di Calabria, paese natale di Derasis, Antonio Carlo Magno, il primo cittadino aggiunto nel suo post sui social di aver comunicato alla famiglia questo alto riconoscimento alla memoria del proprio caro che ne esalta il sacrificio e il senso di una vita impostata al servizio del prossimo e della comunità. Tale riconoscimento, ha sottolineato ancora, avviene in concomitanza di un'altra grave tragedia, quella del ghiacciaio in Trentino, che purtroppo suscita e ravviva un grande dolore che si fonde con quello di tante altre famiglie che oggi piangono i propri cari. Il prossimo 12 luglio 2022, Carlo Magno, in rappresentanza dell'intera comunità di Cerchiara, sarà accanto alla famiglia Derasis per ricevere, dalle mani del prefetto di Cosenza, l'alto riconoscimento alla memoria di Antonio.